E' scattata un'ora solare un po' particolare, io sento una musica, vedo un'ombra e sento una voce riconoscibile. Ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano, passeggiava con te Gianfranco Lacchi, cantatore, cantatore che fa, ben trovati, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi, è stato tutto un cinema, un cinema anche perché c'è molto cinema nella vita di quest'uomo, un cinema e sistema dietro e fa vedere l'ombra, e si e no, ma eccoci qua, con un ragazzo, perché Gianni Morandi è un ragazzo e Gianfranco Lacchi pure, che lo ribadisco, poi arriviamo a Gianni Morandi, si definisce a buon titolo cantatore, cantatore è vero. Anche un po' in cantatore, ma cantatore perché? Cantatore perché poi i miei appuntamenti nel mondo dello spettacolo hanno calpestato vari settori, anche quello dell'attorialità, sempre per cosa aiutare, non per bravura, no accidenti, non merito tanto. Allora, è bravissimo, è bravissimo Lacchi, è bravissimo, e poco fa gli dicevo, è più il talento o lo studio, e poi scopriamo perché proprio Gianni Morandi, è più il talento, no, è talento più studio, dai. È passione innanzitutto. Che carino, è vero. È passione. Poi il talento viene stata facendo, laddove poi ci fosse. C'è, c'è. Però, diciamo che, sì, mi ci sono trovato poi dentro, ci sono dei precedenti. Allora, ci sono dei precedenti, non penali, ma dei precedenti che hanno a che spartire, sia col mondo del cinema, che ad un certo punto recitare sarà un suo lavoro, e lo è, e poi soprattutto il mondo della musica. Perché, diciamo così, la musica, tu eri accerchiato dalla musica, fin da ragazzino. Sì, che è dal cinema, perché io avevo mia madre che lavorava nel cinema. Sì. Ha lavorato con Fellini? Sì, era operaia, chiaramente. Certo. Però l'uomo controllava che la pellicola... Alla fine fece la passa film, perché il cinema andò in crisi, purtroppo. E faceva la passa film. La passa film era, quando le copie venivano distribuite nelle varie sale di tutta Italia, poi ritornavano indietro, perché c'erano delle spezzature sui quadratini, che dove passava lì la forchetta, che si chiamava, che tirava giù la pellicola, la spezzava. Quindi si interrompeva il film durante la proiezione. E mamma... Mamma, con il guanto, tipo l'amo viola, con la luce a neon sotto, guardava e sentiva se c'erano dei tagli fatti male. Questo pupetto, che vedete in foto... Comincia tutto da lì. Comincia tutto da lì. Ecco, il tuo papà, con questa camicia molto... Degli anni 70. ...di anni 70. Sì, sì. Il tuo papà... Mio padre lavorava niente, mio padre lavorava... Era tappeziere. Però era un tappeziere, diciamo, della Roma bene, se vogliamo, per caso anche lui. E lui, per bravura davvero. Lui si vantava molto che aveva rifatto le dende a casa di sordi. Wow! Quindi lui, casa di sordi, era... Tutto torna, eh? Tutto torna. Tutto torna, signori, perché tra poco parleremo anche dei re di Roma, ma lasciamo stare... È perché sordi, è tra i re di Roma. E poi parliamo di Gigi. L'ottavo sicuro. Proietti, dagli 11 ai 18 anni, sto bravo ragazzino, studia pianoforte perché si doveva. E poi c'è la figura di questo zio. I zii, come sono importanti. Zio è importante. Zio è la musica. Zio Franco Pacifici. Eh sì, perché lui lavorava presso una grossa multinazionale, che oggi non c'è più, si chiamava la RCA. Tutti in piedi. E la RCA era la RCA, insomma. RCA, che è poi voluta proprio dal Papa Paolo XII, mi sembra, no? Più XII. Più XII. Più XII. Più XII. Dopo l'avvento della guerra, San Lorenzo, che era un quartiere di Roma, era stato danneggiato molto. Certo. E per ridare un po' di lavoro a Roma e un po' di dispenseratezza si pensava bene di aprire questi studi. No, non erano ancora studi. I studi divennero dopo. Praticamente loro facevano le masterizzazioni poi dei dischi che arrivavano dall'America e li stampavano. Allora, guardatelo lo zio Franco. Questo è Franco, sì. A questo zio si deve tutto. Eh sì. Perché il nostro Gianfranco andava a trovare lo zio Franco, che era, eri ragazzino proprio. Lui decideva chi entrava e chi usciva. Eh, capito. Faceva l'uscere. Faceva l'uscere. E non c'è il ruolo più importante. Chiamati dentro la recia portieri. Eh, capito. I portieri. I portieri, non l'uscere. Allora, zio portiere, che tu andavi a trovare anche con la voglia di vedere tutti questi grandi nomi. No. No. Pensa, all'inizio no. Non ne sto azzeccando una, qualcuno mi aiuti. Non ne azzecco una. Andavi a trovare lo zio. No, no, la curiosità. No. Bene. Come andò? No, mi dispiace averti fatto fare involuntariamente una gaffa. No, che poi non è una gaffa, ci mancherebbe. No, e io ero appassionato dell'elettronica, dei macchinari. Ma va? Eh, ma lì c'erano dei ventammatti. Ne. Come se faceva il disco, usciva sta palla nera, poi boom, andava sotto a sta pressa e faceva il disco. Eh, a te interessava più la parte elettronica che non... I mixer, i mixer, i microfoni. Che non vedere quei nomi che passavano. Li ho capiti dopo. Ah. Li ho capiti dopo. Perché lì, quando sono arrivato io all'RCA, ce n'erano un pochino pochi che entravano. Perché erano gli anni settanta, agli anni settanta già i cantanti venivano messi un po' da parte. C'erano i cantautori, ecco, vedevo Baglioni, Venditti, questi si, Te Gregori, Lucio Dalla. Beh, a te, ecco, questi tu li vedevi. Allora, ma Morandi? Stavo dentro sta guardiola, c'erano due entrate all'RCA, che se entrava e si usciva. Poi ne decisero di aprire una sola, quella sotto, perché il sopra non serviva, tanto non c'era più quel movimento di una volta. Sì. E mio zio stava lì, il pomeriggio era lì. E mi ricordo che un pomeriggio, stando lì dentro con lui, arrivò sta macchina, questa Citroën Palace, si può dire perché è fuori produzione. Sì. E mio zio si sbracciava, ciao, come stai? A casa tutti bene, i ragazzi crescono, i bambini crescono. Cioè, allora, dai, 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 che ce la fai? Dai, che i clienti cambiano, senta che cambia. Lo fa entrare, e lui gli dice, zio, ma chi era questo? Dice, ma non l'hai riconosciuto Gianfranchi? Dice, questo è Gianni Morandi. E intanto vedo sta macchina che si inoltrava nei parcheggi. Dico, ah sì, dico, mamma e papà me ne hanno parlato questo personaggio. Dice, sì, ma non canta più zio? E mio zio disse, no, dico, come mai? Cioè, perché qui non capiscono niente. Aveva ragione zio. Poiché il mondo poi cambia, perché Gianni Morandi non smette mai di fare musica, non smette mai di essere quello splendido, straordinario, unico artista che è, sentite come il mondo cambierà. Ma ne facciamo proprio una... Sì, il mondo cambierà è la prima canzone che ho ascoltato. Vedrai che il mondo cambierà Le sue ferite guarirà L'amore non può morire Sarebbe come dire Che questa è la fine Signori, è soltanto la fine della primissima parte dell'Ora Solare. Ci vediamo tra un attimo con Gianfranco Lacchi parlando del mito Gianni Morandi. A tra poco. E' un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones Girava il mondo Veniva da Gli Stati Uniti di America Non era bello Ma accanto a sé Aveva mille donne Cantava her Dettin che durai Un lady Dello yesterday Ta 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 Che imita Ma forse non devo dire imiti alla perfezione Gianni Morandi La tua non è un'imitazione La tua è un cantare Beh, ci proviamo però, dai E' un cantare Gianni Morandi E' un risottolineare E' un risottolineare Bellissima Mi è stata data Io la pensavo così Ci presentò un giornalista Credo comune a tutte e due A me e a te Che si chiamava Gianni Minà Beh, tutti in piedi Tutti in piedi E che lui ebbe questa Questa mia Cioè questa Mi voleva bene Dice ma Gianni Ti conosce Ma te devo far conoscere E gli parlò di me Poi ci conoscemmo poi Sempre tramite la RCA E lui Le cose che si stupisce Ma tu non lo fai di mestiere Non vuoi farlo per mestiere Dico ma io Ci vorrei provare Ma imiti in me Dice ma Non è possibile Come pensi di riuscire E infatti aveva ragione lui No, no, no Tu non fai questo di mestiere No, no Va bene Però Allora Il mestiere di quest'uomo L'abbiamo detto in apertura Gianfranco Lacchi è un cantatore Voi provate soltanto ad immaginare Che sono costretta a farvi fare Un po' di marcia indietro Marcia avanti Che Ha lavorato Con Armando Trovaioli Oggi è tutta una puntata Ad alzarsi in piedi Pietro Garinei I settere di Roma Con quel Con quell'uomo per il quale Non ci sono aggettivi sufficienti Che è Gigi Proietti Che faceva i settere di Roma Che forse Tra tutti i suoi lavori È il lavoro più Tra i più strepitosi Perché era difficilissimo Tu non solo Vai sul palco Canti Per gioco Per gioco sempre Non per volere Guardatelo qua Ragazzetto Accanto a questo Avevo 21 anni qui Eravamo a Milano Accanto a questa meraviglia Ad un certo punto Tu Prenderai la parte Di Gigi Proietti Sì Perché poi nel frattempo Io diventai molto amico Di Gigi Magni E Lucia Merisola Sempre per caso Sì Ma avevano preso come Un nipote Un figlio Non erano figli Ho capito Però sei ben bravo Perché qui è una questione Di talento Io non ho mai puntato Al successo vero e proprio Questa è la verità Ho sempre parlato Di altre cose Con gente che poi Ho conosciuto Questo è molto bello Quindi noi Andavamo un giro per Roma Fino a sera alle 8 E mi parlava Eccolo qua Di Gigi Magni Con sua moglie Di Ogni Vigo Qui è proprio Nelle prove dei nostri Sette Re E lui mi propose Ma perché Lui parlava sempre Con la mano così Ma perché tu Visto che ti diverti A fare st'imitazione De sto matto Dico Morandi Dice sì Vabbè Vieni dall'imitazione Perché non mi imiti I Sette Re di Roma E li rimettiamo su Dico ma Prova a dirvi no Dico provamo Allora O provamo Meraviglioso Signori Per chi non è di Roma O provamo 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 Allora ecco qua Torniamo a Morandi va Sì Allora Dunque Gianfranco Lui Canta Morandi Nelle piazze Prevalentemente Prevalentemente Hai fatto Uno spettacolo bellissimo Che è Morandiamo Morandiamo Che non è famo Morandiamo 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 Amo Morandi Morandiamo Facciamo Morandi Racconto la mia storia Da fans Attraverso le canzoni di Morandi Diciamolo sinceramente In ogni cover che c'è Perché oggi è un dato di fatto Le cover Sì I protagonisti Non siamo noi che facciamo le cover Ma sono le canzoni Quindi io ho fatto protagonista ancora di più le canzoni di Morandi Senti Più che io Allora Tu non scimmiotti niente Beh un po' Morandi sì Dai per giorno sì Ma fammelo dire Tu sei Sì Ok Però sei È autentico La tua passione Il tuo racconto Ah sì No Il tuo sottolineare Morandi Come hai detto prima È autentico È bello È speciale Morandi che ti ha detto? Mi davate il matto E su questo siamo perfettamente d'accordo Noi ci siamo chiariti Con Morandi Alla bella e la bestia Ah lo vedi allora che c'era Perché diceva Tu fai questo per mestiere No E dico Gianni Dico io se non tiro fuori almeno 50 date l'anno Dico Steville e i petrogli Come i pago? Dici Ma scherzi O pari su serio? Allora io lì non dovevo neanche cantare Pensa Perché Lucia aveva scritto Che io dovevo uscire soltanto Sabrina Ferilli Caggiani Morandi E scendevo io Sulla musica Di scendere la pioggia E invece Gianni Andò da Lucia Lucia guarda che lui Deve cantare Perché non è in faccia Che mi somiglia molto Se canta Dico ma che mi fai cantare Gia Lascia fare a me Perché Morandi Signori È tra I pochi Grandi Signori Della scena Perché lo è anche nella vita Gianni Morandi Al quale va Tutto il nostro cuore Rosso blu E lui sa per te Ha il senso del lavoro Ha il senso del lavoro Del lavoro Bravissimo Lui ha il senso del lavoro Allora La scena è La bella e la bestia Scende la pioggia E Facciamo scendere la pioggia? Dai Sicurati Per quello che ci costa Ma Scende la pioggia Ma che fa? Crolla il mondo Addosso a me Per amore Sto Morendo Amo la vita Più che mai Appartiene Solo a me Voglio viverla Per questo Allora Gianfranco Lacchi Che è proprio bravo Dunque Da Morandiamo Ad Aspettando Morandi Cos'è Aspettando Morandi? Io sognavo Tutta la vita All'RCA Perché lo vedevo All'RCA Un grosso manager Che si chiama Gianni Marsili Per me Gianni Marsili era Perché Marsili era quello che muoveva poi gli artisti Li metteva a confronto Poi li portava sul pubblico Perché la casa discografica Si faceva i dischi Ma la prova generale La prova vera è il pubblico Quindi lui aveva molto voce in capitolo Anche sulle canzoni Guardate che questa E questo è Gianni Guarda questo non funziona Allora io Siccome gli sono stato Gli sono amico da più di 30 anni Però abbiamo parlato di lavoro pochissimo E nei settori di Roma Perché lui lo produsse E su questo spettacolo qui Perché per il resto Noi ci vediamo per le mangiate Per divertirsi Le partite di pallone Le partite di pallone Magari no Di biliardo con lui Di biliardo Di biliardo Pallone proprio no Pallone no Nel senso siete di squadre antagonisti No no Lui è romanista A me 22 persone Appressa una palla Non mando mai No 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 proprio no Quindi insomma Aspettando Morandi Lui dice Bisogna fare Abbiamo scritto Abbiamo scritto insieme Con Mario Zannini Gianni Marsili Mario Zannini Ed io abbiamo scritto Questa canzone Che si intitola appunto I miei anni Ma perché parlare solo di questa canzone La possiamo sentire I miei anni Ah come no Magari se volete La possiamo sentire Mentre raccontiamo E praticamente dice Perché non fare proprio uno spettacolo Cioè però bisogna levarsi Da limitazione solo Cioè fammi ci pensare E tiro fuori Sto aspettando Morandi Che è un diciamo Un rifacimento Si è ispirato Ad aspettando Godot Esti due Alla panchina Perché diciamo Noi tutti abbiamo Qualcuno da aspettare Un Godot da aspettare Chi aspetta il successo Chi aspetta l'amore Chi aspetta La partita Che magari vince La squadra del cuore E io aspetto Morandi E tra telefonate di Morandi Che dice adesso arrivo Ma raccomando Non fare sta canzone Fa questa piuttosto che questa Non mi canta questa Sennò poca cosa canto E la regola è Mi raccomando Non dire niente a nessuno Deve essere una sorpresa Che bella cosa Alla fine quando lui mi dice Guarda che Mi sa che io qui C'ho da fare Meno male che non l'abbiamo Detta a nessuno E io guardo il pubblico Tutti a ridere Diceva Ma che l'hai detto Dica Gianni Ma lo sanno tutti Quindi Senti Gianfranco Tu hai una Come posso dirti Hai una Una tenacia Una bravura Una professionalità In tutto ciò Che ti è capitato per caso No? Hai saputo gestire Questo per caso In maniera estremamente professionale E hai Questo spirito Veramente da ragazzo Cioè che è indipendente Da quel ragazzo Di Monghidoro Che è un ragazzo E lo sarà Fino a cent'anni e oltre Però hai veramente Questo piglio Qual è? Non guardare mai La carta d'identità Se fai caso Ma me l'hanno chiesta Qui all'entrata Ah Ho coperto col dito Hai coperto La data di nascita La fa una fotocopia La rego io La rego io Ma è meraviglioso Provate a immaginarvelo Sul palco In teatro Meraviglioso Gian Giancolacchi Allora Attenzione Bisogna prendersi in giro Assolutamente Specialmente quando si imita qualcuno Perché sennò dopo ci credi Diventa pericoloso Poi credi di essere No Diventa pericoloso È un gioco E tale deve rimanere È un gioco E tale e quale deve rimanere Ho ancora molte domande Da farvi anche Ah no Aspettate Questa ve la devo raccontare Vi riporto ai settere di Roma Perché è troppo bella Perché lui fa Un Posso definirlo Un provino Con Trovaioli Trovaioli A un certo momento Passo dalla parte del mixer Per salutare E lui mi fa Le posso dire una cosa Dico Mi dica maestro Lei nella vita potrà fare tutto Meno che cantare C'è lei conosce via Sistina? Dico sì C'è un teatro Se ne hai mai accorto Dico sì C'è un cinema No un teatro È un teatro Cioè guardi Intanto scriveva su un foglietto Sei presenti domani alle 15 Lì Con questo foglietto Dica sì Grazie a me Già quello che mi aveva detto Già mi aveva mandato fuori Eh sì Mi presentai al Sistina E andai alla recita Il foyer del teatro E mi disse Guardi dovrei parlare con Garinei Dice sì Guardi Vedi tutta sta gente qui Deve parlare tutta con Garinei Come savo le momette Dico no vabbè Con questo foglietto in mano Dico vabbè Ma che c'ha in mano? Dico no no niente Dico ripasso Poi questo vuole essere bene Il biglietto Ci aspetti un po' lei Venga con me Mi portò nel famoso bunker Ragazzi Ragazzi ragazze Chiunque ci segua da casa Di tutte le età Il bunker del Sistina Con Garinei Giovannini Con Pietro Garinei Era veramente Il luogo dove Le cose accadevano Era davvero il suo Ufficio E aveva una particolarità Che non so se qualcuno sa Dopo preso un po' di confidenza Loro aprivano poco Perché dentro c'era un bagno Dentro Aprivano un po' l'acqua del bagno E sembrava una papera Wow wow Tutti dicevano Ma che c'è Vede una papera? E lui usciva dicendo Sì L'abbiamo presa Per uno spettacolo Dico strilla Eh sta male Molto male Ed era il rubinetto Dopo Quando morì Pensa che io poi Lo frequentai con Enzo Garinei Lui apri il rubinetto Per la pasta di mani Dico ma che c'ha Vede ancora la papera? Dice quale papera? Era il rubinetto Dice no ma è lo scherzo Di mio fratello Dice no è il rubinetto Che genio Che genio Dall'anni 50 Che è così Allora Allora Lei non potrà mai cantare Però lo manda da Pietro Guardatelo Questo Enzino Garinei Questo Enzo Che venne qua Ve lo ricordate A festeggiare il suo compleanno Caro Enzo Enzo Garinei Insomma ecco Io questo Scusate sono tornato indietro Stiamo facendo un po' avanti indietro Però da sonde La vita di Gianfranco Lacchi Non è soltanto C'avete la mia carta d'identità Non è soltanto Cantare Morandi No anzi Risottolineare Morandi E essere artista A tutto tondo E questi particolari Andavano raccontati Perché Perché sì Perché è giusto Allora Grazie Due anni fa Grazie a te di essere con noi Il Lacchi Come dicono quelli bravi Partecipa anche a tali e quali show Oh un parto Un parto Perché a me non sono mai piaciute le gare Bardotti Sì Caro Ha insistito molto Perché io almeno facessi una prova A Sanremo Giovani C'è ma viece no Andai con un brano scritto da me A Sanremo Giovani E si arrabbiò Ma tu mi vieni qua A me fai una canzone A canti come Morandi Alacchi Te voglio bene Hai rovinato tutti Signore un altro E quindi per me le gare Sono sempre le competizioni Capito La musica non può Però in questo caso l'hai fatto L'ho dovuto fare E cosa hai cantato? Morivo di fame Eh? Non è il senso buono No Di fame di palcoscenico Di fame di palcoscenico No no Di fame di palcoscenico Ci mancherebbe altro No 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 Allora Tu hai cantato E sei arrivato Secondo? Sono arrivato Primo nella puntata E quarto Poi giustificatamente Giustificatamente Cantando La fisarmonica La fisarmonica Signori Per te Era di notte C'era la luna Baciavo le tue labbra Era l'ultima volta Te ne andavi da me Amor Ma quanto sei bravo Non ho capito Scusa Ma quanto sei bravo Possiamo dirlo Allora Gianfranco Lacchi Ma tu da grande Che vuoi fare? Ma io ho deciso Quante volte te l'hanno fatta Sta domanda Mamma mia Mi unisco pure io Mio padre tutti i giorni Ma faceva pure io Poi ci ha lasciato Anche lui E io Ho seguito Il consiglio dei miei genitori Cioè Attento Questo è un gioco Quindi qualsiasi cosa Guadagni Cercate di metterla da parte Perché se no Poi la vita è molto lunga A volte può essere breve Ma fa che Pettis grazie è lunga Poi sono guai Allora io Quelle quattro cose Che potevo fare Ho fatto cose Che poi mi fanno stare bene Quindi ad oggi Che voglio fare da grande Voglio vivere bene Non bene con i soldi Bene con la mia famiglia Con una famiglia allargata Sto benissimo Ho dei figli sensazionali Quindi più di questo Che vuoi? Quando sei chiuso Il cancello dei casi E vedo che tutti stanno dentro E siamo tutti a posto Ci abbiamo solo Che da vive e da sorride Il resto E anche filosofo No 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 E anche filosofo I lacchi No non volevo fare questo Non volevo fare questo Signori Siccome in apertura Ma è da grande Sono già grande Non avevi 28 anni? Mi hanno detto così Nel dito Cordito Cordito Appena l'hai cordito Eh beh 88 Non sono No 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 Allora signori Siccome è l'ingresso Ingresso non sopra Dove hai lasciato il documento Col dito sopra Ma qui L'abbiamo un po' stirata Voi che ne dite? Ci facciamo mandare Dalla mamma A prendere il latte? Ma la ascoltiamo Proprio tranquilli Solo un pochetto Quanto basta Gianfranco Latti Fatti mandare Dalla mamma Prendere il latte Devo dirti Qualche cosa Che riguarda Noi due Ho visto uscire Dalla scuola Insieme ad un altro Con la mano Nella mano Passeggiava con te Tu digli a quel coso Che sono geloso Che se lo ripeto Ti spaccherò il buso Ti mandare Dalla mamma Prendere il latte Presto scelvi Il mio amore Nostro ospite Allora Solare Gianni Morandi Che si segue Ci vede Noi lo abbracciamo Cuore rosso blu So quello che dico Ci si vede in Europa Anzi in Champions Ma questa è un'altra storia Allora A Gianfranco Lacchi Noi auguriamo Tanta strada da cantare Ma tanta Quanto la signora Ada Trevisan Fecchio Che Mauro Gotardi Andate a trovarlo Ha 104 anni e mezzo E soprattutto Canta Guardate un po' Canta Voglio vivere così Col sole in fronte E felice Gatto Beatamente Sono nata a Venezia 17-10-19 Nel 49 Mi sono sposata E febbraio 42 Ho avuto il posto a Porto E sono andata in Albania Dove lavorava mio marito Sono rimasta sette anni lì Mezza una guerra Lì sono nati tre figli Tre in Albania Cinque a Venezia Una porca E una pallavana E a pallavano siamo rimasti Eravamo allegri Allora si cantava Io e lui più che altro E perci d'opera Io oggi ho 104 anni e mezzo Io ho 14 nipoti E 10 pronipoti Le auguro tanto bene A tutti quanti Qual è il tuo segreto mamma? Il mio segreto? Ah si Lavorare tanto per i figli Per la casa Non avevo tempo A pensare altro Una volta la cantavo sempre io a casa Ma cantavo sempre Dicevano Il signor Fecchio È sempre allegra E Al suo compleanno Ci riuniamo tutti quanti Siamo 50 Solo noi E la mamma Ordina sempre il pranzo Perché lei vuole Che pranzo vuoi mamma Quando ci riuniamo Voglio ordinare Fesce per tutti Allora Non a caso abbiamo raccontato La storia di questa signora Che salutiamo Di 104 anni e mezzo Una pupetta Una pupetta Cioè una ragazzina Rispetto alla storia Che ha scritto Ed è venuto qui A presentare Signore e signori Marco Presta Grazie 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 Attenzione È lui È lui Quello vero Originale Quello originale Non ci sono dubbi Attenzione Edito da Einaudi Ora faccio la voce Verso l'abisso Fischiettando Chi è che va Verso l'abisso Fischiettando Quanti anni ha Sto protagonista Protagonista Si chiama Enrico E la signora Che abbiamo visto Prima nel filmato È un adolescente In confronto Perché lui ha Un'età biblica Praticamente È arrivato a 133 anni 133 Un'età improbabile Eppure lui Esiste ancora Pur raggiungibile Sì Se tu gliel'hai fatta raggiungere Vuol dire che si può Sì Devo dire che finora Nessun essere umano Controllato Ci è mai arrivato Ci si sono un po' avvicinati Siamo arrivati ai 120 121 C'eri greto Non escludo Non è più esoluta Però il protagonista Ci arriva Allora Non poteva che essere La penna Di Marco Presta La cosa è provata Basta leggere tutti Gli altri suoi libri È una penna Felicissima Perché Marco È un uomo colto È un uomo sensibile È un uomo attento È un uomo che fa Dell'ironia Chiaramente Come dire Starei a sentirti per ore Ecco Mantua Ascoltami Allora Che caratteristica Ha questo signore Perché lì è la storia Oltre ad avere 133 anni Ma questo signore È un signore Che Ha un rapporto cordiale Con il creato Gli piace Esserci Gli piace Trova qualcosa di interessante Nella gente che lo circonda Quasi sempre Ama la vita È banale Ma non è scontato Ma non è scontato E lui dice A un certo punto del romanzo Se la vita continua a piacerci Nonostante tutti i guai Che ci combina E cioè perdiamo persone Che amiamo Abbiamo malattie Questo e quell'altro Allora vuol dire Che deve essere bella davvero E questo è il suo atteggiamento È un atteggiamento Di un uomo che osserva il mondo Che lo circonda Con benevolenza Con ironia Con pietas Lui cerca di capire Anche gli errori degli altri Sperando che gli altri Capiscano gli errori suoi È un saggio Senza volerlo essere E senza volerlo insegnare agli altri Le persone intorno Perché c'è sempre una lezione Nei libri di Marco Presta No? Tu li leggi Ti appassioni Ridi tanto Ti commuovi Le persone intorno E Amano un uomo arrivato A 133 anni? Lo detestano Lo detestano E qua Non solo i suoi conoscenti È la specie umana Che lo detesta Quest'uomo La orrida specie umana La orrida specie umana Per certi versi è così Lo detesta Perché Perché comincia a chiedersi Perché Quest'uomo vive così tanto Che c'è sotto Cosa Esatto Inizia quel complottismo Che ci contraddistingue Parble Quella dietrologia Certo E quindi Questo è un esperimento Di laboratorio Questo forse è un frutto Del maligno addirittura Una chiesa delle Wisconsin Lo scomunica L'unica colpa di quest'uomo È essere vivo Ed è la discriminazione Suprema Questo è anche E per certi aspetti Soprattutto Un libro sulla discriminazione Noi discriminiamo Qualunque cosa al mondo Anche fra scala A e scala B L'essere umano Lui è discriminato Perché in quanto minoranza È la minoranza assoluta Cioè c'è solo lui Di quell'età E lui dice Io non ho fatto niente Vado a letto la sera E mi sveglio la mattina La mia colpa è questa Ma l'umanità Non glielo perdona E c'è in questo tentativo Perfettamente riuscito Purtroppo Di discriminare C'è tutto Certamente C'è anche la discriminazione Verso chi Forse non 133 Ma raggiunge Una determinata età Ma anche proprio Le persone che abbiano Un cuore lieto Che vogliano vedere la vita In un certo modo Che siano pronti Ad aiutare gli altri Ci sarà qualcosa sotto Ecco Al vostro comodino Scrivania Borsa appoggiata Mentre state viaggiando In treno Questo Edito da Inaudi Marco Presta Verso l'abisso Fischiettando Se la vita continua a piacerci Nonostante quei che ci procura Deve essere bella davvero Ora Io la storia di un signore Di 133 anni Me la leggo Finendo col naso Dentro le pagine Ma la domanda è Ma come ti è venuto in mente? Ma Mi piaceva l'idea Di un uomo Che Venisse Perseguitato Innocente Abbiamo degli esempi Anche molto più importanti E Nonostante questo Non provasse rancore Per chi lo perseguita Lui non riesce A provare rancore Cerca di capire Davanti a casa sua Ogni giorno Si svolgono manifestazioni Di protesta Per il fatto che lui è vivo E lui Ogni tanto A 133 anni Cerca di aggirare la polizia Perché lui vive Sotto scorta di polizia Per andare a parlare Con questo coreano Con questo portoghese Con questo francese Che protesta Contro di lui Ogni volta lo bloccano Per la sua stessa sicurezza E lo riportano dentro Signori Marco Presta Oltre al fatto che Sentirlo parlare Sì vedendolo Sì vedendolo è vero La radio ora si vede Però voglio dire Tu arrivi dal ruggito Del coniglio Tutte le sante mattine E poi te lo trovi davanti Ovviamente Antonello Dose Noi lo salutiamo caramente E ci fermiamo Solo per un attimo Perché Perché egli È ostaggio Dell'ora solare Fino a fine puntata E poi lo restituiamo Il resto del mondo A tra poco Grazie Ostaggio Ostaggio Signore e signori Ladies and gentlemen Marco Presta È lui È lui È lui Scusate In carne e ossa Lo vediamo Anzi l'abbiamo salutato Abbracciato È proprio lui È qui È qui Grazie Grazie a voi Delle vite Allora da quanti anni Fate del bene al mondo Con il ruggito del coniglio Diciamo stupidaggini Da 29 anni 29 anni Che bello Eravamo Era vivo Marconi Quando abbiamo provinciato E quindi Tanti anni Credo sia Forse il programma Più longevo Quotidiano che c'è Faccio danni La mattina Su Radio 2 Si legge Sulla sua pagina Instagram E tu sei Non ci sono dubbi Conduttore radiofonico Ma sei autore Sei scrittore Sei uomo Di talento E di un'ironia E di una Adorabile Marco Malinconia Adorabile malinconia Perché sei Come tutte le persone Scoppiettanti Hai la tua sacca Dove vai a trovare Le cose che vuoi trovare tu Si È vero Confesso Confesso È vero Ma Sai Credo che sia Una componente Importante In radio Questo si vede Meno Forse Che magari Nella scrittura Perché la radio Ti impone Un ruolo Che accetto Con grande piacere E che fai in maniera splendida Cercare di Tirare sul morale Di chi sta andando al lavoro Sta andando a portare Sì a fare le analisi Il bambino a scuola Certo A rapporto Insomma con gli altri bambini Il primo giorno di scuola Credo che fu una cosa Apocalistica Perché Perché ero disperato Non mi avevano mandato Questo lo racconto anche nel libro Che per molti aspetti Autobiografico Non mi avevano mandato All'epoca la chiamavano Primina Sì Mi mandano in prima elementare A sei anni Bambino che è sempre stato chiuso in casa Quindi improvvisamente Prendo atto del fatto Che non sono l'unico bambino al mondo Come mi avevano garantito E soprattutto Non so fare niente Gli altri scrivono A, B, C, D Ah c'è gli altri già sapevano scrivere E io vengo adesso Quindi comincio a piangere disperatamente Chiamano mia madre a casa Insomma Non è partita benissimo Ecco diciamo la verità Però Però poi La strada fatta Si è andata Benissimo Allora L'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico Sì Oddio mio Io sono quella a destra Scusami Non ero preparata a questa fotografia Neanch'io Ma è un caro ricordo È un caro ricordo Però Sono io Mi avete svelato Sono stato Batman Sei stato Batman Sono stato Batman Ecco allora Devo dire che all'epoca Era un simil Batman Perché Batman non è rosso Diciamo la verità No Questo era un Batman Questo era un Batman rosso Quella vicina è mia sorella Ed è un tragico carnevale Credo di aver avuto Boh Sette, otto anni E la posa c'è La posa c'è La posa c'è La faccia pure La faccia pure Il fisico meno Se vogliamo Però insomma Sì Che amore Allora scusate No Veramente è stato un O Perché non voglio mai vedere le fotografie Prima Di sgomento E quindi un attimo di sgomento Ma allora Esattamente Come fece per esempio Vittorio Gassman Che molto timido Fu invitato dalla mamma Ad andare A far l'attore Egli Ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico Sì Dove ti sei diplomato Fra poco mi alzo in piedi Continuando a parlare di te E Grandi maestri Primo fra tutti Luca Ronconi Cioè signori Stiamo parlando Con un capolavoro d'uomo Che poi dici Ma come fa A essere così Fa Ah perché No Ho avuto fortuna È stratificazione di No Ho avuto fortuna Di incontrare Beh a superare gli esami All'Accademia di Silvio D'Amico Non hai avuto fortuna Marco E sei stato bravo È un concorso pubblico peraltro Per cui sì Ma poi lì Ho avuto modo di incontrare Maestri strepitosi C'era Monica Vitti C'era Paolo Panelli C'era gente incredibile Gastone Moschin Qui Avevamo attori strepitosi Che venivano ad insegnare Insomma era bello Dai Era bello Era bello Era bello E quando si è Fortemente ricettivi Diventa ancora più bello Perché tu impari Dalla grandezza dentro La quale ti trovi Perché te la sei meritata Egli E il passaggio alla radio Poi tantissima televisione Tu hai firmato Firmi Lavori meravigliosi Ma il passaggio alla radio Per nostra infinita fortuna Come è avvenuto? Ma Mi dispiace rispondere Come Miss Italia Cioè iniziato come un gioco Ma La verità Miss Italia in genere Rispondono così Sì No io Lavoravamo con Vaime Sì Con Enrico Vaime Grande fortuna Aver trovato un maestro Oggi Un pochino scarseggiano Enrico Era una meraviglia E Purevamo fare gli autori televisivi Nella nostra ingenuità E invece un giorno Enrico ci chiama E ci dice Cercano su Radio 1 Dei giovani Per fare dei programmi Per fare un programma Ho dato il vostro nome Vi chiameranno E attacca Ci chiamano E ci fanno fare Il programma E si chiama Effetti Collaterali Che però non andava Granché bene Secondo i gusti Degli allora dirigenti Di Radio 1 Per cui ci chiamano E ci dicono Ragazzi È stato bellissimo Ma purtroppo Noi diciamo È stato bellissimo Grazie Una settimana prima Della fine del contratto Telefona Renzo Arbore Al direttore di Radio 1 Dicendo Ma che sono questi ragazzi Sono bravi Non li avevo mai sentiti Ci salva la vita Non ci sarebbe stato Forse Il rugino del coniglio Senza quella telefonata Grazie Renzo Grazie Renzo No ma gliel'abbiamo detto Tante volte Lui dice Non lo dite Basta Noi lo diciamo Come pubblico Ma io lo dico Perché è vero E quindi Enrico In primis Che è stato un papà E in questa circostanza Renzo Insomma Ci hanno aiutato Ecco Il problema è sempre questo Li hanno aiutati Senz'altro Hanno aiutato noi Perché poco fa È apparso in fotografia Con tanto di coniglio Di pezza Anche Antonello Dose E uno dice Una coppia così Proprio sapete La cerniera Proprio perfetta Tutti i dentini Della cerniera Conoscenti Fin da bambini Da ragazzini Era il 1832 Quando io con Ubi Dose Che aveva già 40 anni Eccoli là Di una rara bruttezza Non è vero Antonello Ma no Ma siete stupendi All'improvviso fa impressione No ci conosciamo Avevamo 15 anni Ci siamo conosciuti in parrocchia A Roma Sud Tu sei Don Bosco La meravigliosa Sì ma noi andavamo A San Policarpo Che era all'epoca Una parrocchia meravigliosa Sempre lì a Cinecissà Con un parroco strepitoso Che si chiamava Don Sisto Qualtieri Che ci sopportava Con una pazienza Un'allegria Che non sto a dirti E lì abbiamo cominciato A fare stupidaggini Spettacolini teatrali Cose Ed eccoci qua Ed eccoci qua Sono stati nominati Cavalieri Dell'Ordine al Merito Della Repubblica Italiana Dal Presidente Mattarella Motu proprio Su segnalazione Di una cittadina Ma Un esercito Un esercito Di cittadini È stato un grande onore Un grande Mamma mia Mamma mia Siete meravigliosi Siamo Sembriamo veri Diciamo così Siete Ed è stata No Un'emozione Grande E non siamo all'alterno Non ce lo meritiamo Però ce l'hanno dato Come si dice Ce l'hanno dato Dato lo prendiamo Lo prendiamo Che dobbiamo fare Lo teniamo Allora Nel rugito del coniglio Si canta Si canta anche C'è questa Questa Tu sei in radio In macchina Oppure sei a casa Con la radio accesa E aspetti anche questo momento No? Cioè Secondo me voi vi divertite Proprio tanto? Assolutamente Nella maniera più assoluta Non avremmo resistito 29 anni Io mi diverto come un pazzo Guarda Le due fasi della mia mattina Sono Dio mio non ce la faccio Alle 5 e 3 quarti Quando suona E dico Per me è finita È finita Adesso mi alzo Morirò Fra l'ingresso Invece poi Entro in macchina E vado Verso l'abisso Fischiettando E arrivo lì C'è un impatto fisico reciproco Con dose di ripugnanza reciproca Poi ci rassegniamo all'altro Come tutte le mattine Scriviamo alcune Bagianate Andiamo in onda E da lì comincia il divertimento Il divertimento puro Signori Noi andiamo tutti Con il libro Edito da Inaudi Scritto da Marco Presta L'ultimo romanzo da leggere E da amare Verso l'abisso L'abisso Sembro proietti Fischio maschio Verso l'abisso Fischiettando Ma nel frattempo È arrivata una cartolina Per Marco Presta Voi sapete Noi abbiamo Un ufficio postale Che ogni tanto Fa arrivare cartoline Cartolina per il nostro ospite Chi sarà? Ciao Marco Come vedi questa piccola Mongolfiera che ho dietro le spalle Sta lì per simboleggiare Il tuo nuovo libro Che possa alzarsi in cielo E vendere decine Centinaia Migliaia Milioni di copie Che possano leggerlo tutti Con questo protagonista incredibile Rico Il centotrentenne Coriacio Forse quasi quanto te Caro Marco È un privilegio Averti conosciuto Ed è un privilegio Continuare a fare cose insieme Che siano sempre più belle E che siano tante Un saluto con grande affetto Ciao Il Max Paiella Eh ma questo era serissimo Eh Lui che scherza sempre È un uomo serissimo È un uomo serissimo No è un grande talento Max È un grande talento Ma tu fai mai la pennichella al pomeriggio? No mai Nonostante la sveglia Non ci riesco Sai perché? Perché se mi metto giù Quando mi alzo è un inferno Sono rimbambito completamente Cioè O dormo O non dormo O non dormo Ma la pennichella Egli non dorme Ed è però cullato Con lo sguardo Con l'amore Da Marina Sì Cara Marina Noi mandiamo tanti baci Marina è tua moglie Sì E poi ci sono Giacomo E Caterina E Caterina Giacomo 25 E Caterina 27 E quindi questa triade perfetta Che ti ruota intorno È la tua fortezza Sì No? Sono loro? Sì Sì Sono una fortuna Perché Ma tu Marina l'hai conosciuta veramente Che eri piccoli? Avevamo 15 anni Sì sì E l'andavi a trovare? Sì Io abitavo a Don Bosco Lei abitava in questo quartiere Si chiama Appio Claudio Che a me sembravano i parioli all'epoca Perché rispetto a Don Bosco è un po' più E da allora non ci siamo lasciati più Non bisogna lasciare Poi sono arrivati Caterina e Giacomo E quindi è Ci possiamo commuovere per questo No, no Ma sono fortunato Sono fortunato Certe fortune sono sempre al di là dei meriti dell'individuo che le riceve E sicuramente per me è così Perché poi le persone che incontri potresti non incontrarle E invece qualcuno te le fa incontrare E quindi bene così Poi però il mantenimento della bellezza del giardino è merito del giardiniere Sì, un po' sì I segni arrivano Un po' sì Allora ovviamente Un tempo i bambini A Giacomo e a Caterina mangiate Mangia la verdura papà Mi raccomando mangia bene Adesso qualcuno mi dice che il ruolo si sia completamente ribaltato Papà mangia la verdura Mangia bene Ma tu sei ragazzino Sì, no, no Ma loro sono molto carini in questo Mi curano molto Si incavolano Poi fanno Non guardare me Loro fanno sport Giacomo sembra una specie di Tarzan E quindi mi cura Deve mangiare questo Questo no Questo sì Questo sì Io mi affido completamente Per esempio salmone scozzese C'è un motivo per cui cito la Scozia Perché l'uomo è venuto con i jeans Sì Perché non voleva presentarsi in una forma Non volevo strafare Diversamente l'avremmo visto col kilt Sì Perché sono lord di Scozia Sei lord di Scozia Sono lord di Scozia Come capitò questa cosa Gli scozzesi non credo che lo sappiano Non fa niente No Allora quando è stato ultimamente per Natale mi pare I miei figli si presentano con una pergamena È un gioco Però vero Cioè si può comprare un metro quadrato di terra nelle island Wow E questo ti dà diritto a indossare il kilt in Scozia E quindi loro mi hanno dato questo attestato Scritto in gaelico praticamente Nel quale dicono Buongiorno signor Presta Lei sta a Cinecittà Roma Non importa Lei è lord di Scozia E può mettere il kilt nel suo metro quadrato di terra E non l'hai mai indossato? No Non ci sono mai stato Ci sto pensando di andare E devi andare E lo so E lo so Andrò E voglio vedere qual è sto metro quadrato Però signori attenzione Scozia Metro quadrato Kilt Highlander Eh sì Verso l'abisso fischiettando È vero Il romanzo del 133 È vero E poi ho detto Vedi come tutto torna Tutto torna Vestito da Batman De Rosso Ma quella è un'altra cosa Tutto torna È vero Tutto torna caro Marco È vero Allora Nel 2015 Sempre per nostra fortuna Ha condotto qui a TV2000 La classe È vero Un programma dedicato alla scuola Al piacere dell'insegnamento All'importanza dell'imparare Tu poco fa hai parlato Bellissimo è stato È stata una bella storia L'unica cosa televisiva decente che io abbia fatto No è la verità Beh era un programma sull'abbandono scolastico Cioè su un tema delicatissimo Perché in un paese come il nostro Paese occidentale Paese nel cuore dell'Europa C'è un abbandono scolastico In realtà molto alto Molto elevato E questo programma Si occupava proprio di questa problematica È stato bellissimo Avere a che fare poi con i ragazzi Parlare del perché Del per come succedeva Marco posso dirti una cosa Tu sei un buon maestro Boh Guarda Perché Perché sei Sei rimasto Di nome di fatto Dove sei nato Sì Sei come un albero Sei cresciuto E hai delle fronde che vanno ovunque Lontanissime Meravigliose Però è il tuo tronco Ben piantato Guarda Potrebbe anche essere Semplicemente pigrizia Non lo so Però per me Diciamo Quello che sono stato È importante Perché è quello che continua a essere Nel bene e nel male Quindi l'appartenenza Alla mia città Al mio quartiere A certe persone Per me è importante Insomma Non riesco a evadere Ma in realtà Non voglio evadere Ecco Non evadere No 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 Ormai poi Ti prego Rimani come sei Ormai ma come dice Una canzone di proietti Ma chi me vuole Manco mamma mia Quindi Tutto sommato Va benissimo Signori Verso la visto Fischiettando Marco Presta Marina Caterina E Giacomo Sulla dedica Noi non potevamo Avere dubbi Io non ti ho chiamato Cavaliere Eh va bene Va bene Ugualmente Ti ho chiamato Lord Però Sono Lord Sei Lord Tra Lord e Cavaliere Mi pongo in mezzo Ti pongo in mezzo Il colore del kilt Colore Ti dovrei dire una cosa Dimela Coraggio Lo dico Respira Lo devo dire Coraggio No lo dico con gioia È giallo rosso il kilt Perché sono anche Cavaliere della Roma Signori io temevo L'ha detto all'inizio così Dico sarà De un altro colore Che non giallo rosso No È giallo rosso È giallo rosso Marco Eh La prossima volta Che vieni qui Allora Solare Sì Ti prego Ti metti in kilt Lo farò Lo farò Però prima Dovrete avvertire Il pub Cioè L'immagine Non è proprio Signori Ecco Da Batman Ecco A Lord Marco Presta Grazie di essere stato con noi Bacio ad Antonello A tutto il rugito del coniglio Grazie infinite Grazie infinite Grazie a te Andiamo fischiettando Per Sorabisco Grazie a te Lo adoro È una meraviglia È una meraviglia Lui è una meraviglia Ma è vera Autentica Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te